Ragazzi, pochi minuti e allenamento, cardio workout per vivere gli stessi benefici della corsa, solo 15 minuti di allenamento per bruciare tantissime calorie con me nel programma Allenati con il sorriso. Allora, 50 secondi di calo, sulle pause i 20 secondi la marcia, 3, 2, 1, andiamo, il tappetino l'ho messo ma sì e no, può servire come no, intanto andiamo, 50 secondi, primi esercizi tranquilli, poi vi dirò quante calorie abbiamo bruciato con questo cardio workout. Britti con la schiena, sorrisi da vendere, ancora, sì, bene il calcio dietro, bene, sì, con me, con me, con me, so che ce la fate, questo lo porta a rimini all'allenamento, 3, 2, 1, marcia, il primo è andato, secondo esercizio vado in mezzo squat e sono i nostri lunge destra e sinistra, ok? Ok, 3, marcia voi, 2, non fermare mai la marcia, 1, mezzo squat e andiamo, lancio al mio ritmo che è quello musicale. Vai, eh, guarda, appoggio a punta, eh, sono tornato un palestro oggi, poi approvate la scelta dei colori rossi perché sto ragionando anche gli outfit, i vestiti per rimini, eh, mi hanno detto i colori caldi ti stanno bene, allora diamo colori caldi, vai. Qui, qui, forza, spingi, spingi, gambe, cardio, workout, eh, forza, 5 secondi ancora, non ho aperto le finestre, mi muoverà il caldo, 3, 2, 1, ok, marcia, 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 rimani in marcia, pausa, il prossimo ragazzi. 546, ma quanti siamo? Skip sul posto, eh, colore approvato, ho letto un colore approvato, una tela, ok, allora vado in marcia, al mio via, skip veloce, eh, 3, 2, 1, skip. Skip, vai veloce, gambe volando le mani, o se no le teniamo ferme. Skip, stringi i denti, non ci si ferma, vai, 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 vai. Skip, 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 super cardio. Skip, questo allenamento fa vivere i benefici di una corsa, il cuore sale, 15 secondi, skip. Skip, vai, 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 forza, forza, forza a non mollare, 4, 3, 2, 1, marcia, marcia, eh, il prossimo, continua in realtà la marcia, perché sarà ogni atto leggermente saltato, ok, a tempo, eh, a tempo, 4, qui lavora anche l'addome, eh, se vuoi salti, se no lo fai senza saltare, 3, 2, 1, 50 secondi. Ok, ok, su, 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 le braccia, eh, sali e scendi, vai, eh, ci siamo, eh, bello questo cardio workout. Non ci fermiamo, questo lo porto a Rimini l'allenamento, eh, così io muoio subito, dopo il primo, lo farò alla fine, quarto della giornata, vai, su, 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 su ancora, 4, 3, 2, marcia, non è un tapirulano in casa, ed eccolo, questo, ragazzi, lateral squat, marcia, eh, non fermare le gambe, marcia, marcia, lateral squat, destra e sinistra, ok, 3, 2, 1, andiamo. Giù, 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 ancora, giù, scrivi, giù, giù, fiato, si, ancora, giù, 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 squat, tempo mio, giù, su, ancora 10 secondi, giù, apri, apri, giù, gli ultimi, l'ultimo, stop, marcia, oh mamma ragazzi ora, skip aperto, la salvo, la salvo, buongiorno a tutti, la salvo se riesco al termine, ho il fiato di salvarla, apri le gambe ragazzi, marcia, skip aperto, 3, 2, 1, si va, veloce, allenamento super cardio, fammi sentire le gambe, ritmo, ritmo, non sento il rumore, non sento il vostro, vai, 15 secondi, vai, 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 vai ragazzi, vi avevo promesso un cardio workout bomba, servito, 4, 3, 2, 1, stop, mamma mia marcia, voi marciate, non abbannate la marcia, ci siamo tutti? Ragazzi, gambe aperte, obliqui, destra e sinistra, rotazione, rotazione, ok, voi marciate, apri le gambe, incrocio, vai con me, 1, 2, 1, 2, vai, rotazione, obliqui, obliqui, sì, no, 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 ancora, sì, rotazione, e, ancora, vai, rotazione, e, e, bene, sulle gambe, sì, sì, forza ragazzi, che poi è una bella doccia, e, ancora, cardio workout, 3, 2, 1, marcia, ragazzi, ora ci sono loro, chi non vuole può fare la corsa sul posto, ma arrivano i jumping jack, con me, ragazzi, al mio tempo, proviamo, ci proviamo, marcia, 3, 2, 1, jumping jack, apri e chiudi, apri e chiudi, apri e chiudi, apri e chiudi, vai, vai, chissà quanti jumping jack farò a Rimini Wellness, 30 maggio, 2 giugno, e, ancora, apri e chiudi, apri e chiudi, resisti, resisti, stringi i denti, con me, dai, dai, cardio, cardio workout, che siamo quasi al termine, forza, ragazzi, pochi secondi, 3, 2, Ugo, marcia, come va ragazzi, ne mancano 3, terzo, ultimo, posizione di difesa di marcia, pugni, destra e sinistra, ok, c'è solo la musica, vabbè, ragazzi, pronti, mi sa che finisci la batteria, 3, 2, 1, pugni, Cioè, musica calata sul finale, no, vai, ancora, pugni, vai, vai, che lo finiamo però, eh, pugni, ruota anche il busto, pam, pam, ruota il busto, Guarda la mia gamba, la mia gamba opposta, a dove va il pugno, ruota, respira, respira, dai che ci siamo, E si è scaricata la cassa, perché tutto fatto in casa qua, agli allenamenti, vai, sì, gli ultimi secondi, 5, 4, 3, 2, 1, ok ragazzi, barcia, Il penultimo è una corsa sul posto, voglio vedere se è proprio, eh sì, è scesa la musica, proprio sopra così, me lo sentite, ragazzi, penultimo, Corsa sul posto, marcia, vai che ci siamo, non c'è la musica, non importa, corsa sul posto, andiamo, 50 secondi, bella, calciata dietro, Metti le mani dietro, eh, arriva a calciarla, vai, vai, che super allenamento, eh, andiamo, 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 sapete che io, Per quanto sono, vorrei essere, poi non lo so, un perfezionista, questa cosa che mi è finita la batteria della cassa, Da metà lestere, potete immaginare quello che, come mi fa arrabbiare, vabbè, però, va, dai, l'importante è bruciare, bruciare, Ancora, 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 dai ragazzi, stingi, vai che poi mi dico le calorie che abbiamo bruciato in pochi minuti, Poi voglio sapere chi è riuscito a farlo tutto, eh, con me, vai, vai, 3, 2, 1, marcia ragazzi, L'ultimo, braccia a terra, mountain climber, veloce, per 50 secondi abbiamo fatto, mamma mia ragazzi, tanti voi, bravi, Pollice su ragazzi, gli ultimi 50 secondi, vieni con me, vieni, 3, 2, 1, andiamo qua, Se non riesci veloce, lo fai piano, ma lo fai sempre, 30 secondi, stringi i denti, Andiamo, vai, vai veloce, ne mancano 20 secondi, Ragazzi, conto alla rovesta, 10, 5, 4, 3, 2, 1, stop, wow, mamma mia ragazzi, che sudata, allunga, Uff, adesso vi dico le calorie che ho bruciato, datemi la forza di chiudere il Garnin, Eh, 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 ah, vi dico in tutto abbiamo lavorato 12 set, eh, In realtà ne volevo fare 10, ne ho fatti 12, ci sono di bene le spalle, Lentamente torna su, lenti ragazzi, perché, mazza che diretta stamattina, Sono già in modalità Rimini, un respiro, fuori, chiudi l'ultimo, fuori, un bel applauso, fammi sentire l'applauso, più forte!